Come ben sappiamo con Polito, tutti i voti parlamentari difficili hanno sempre la firma di Renzi a un certo punto c'è qualcosa che cambia perché lo deciderebbe. Oggi ho visto la sua intervista in cui lei giustamente dice io Mattarella sono molto fiero di averlo portato, Draghi sono molto fiero di averlo portato. Ah, peraltro, il nostro Polito qui ha detto che secondo lui vanno al Quirinale o Draghi o Casini. Lei secondo me sotto tutto preferisce Casini. Aspetti, andiamo con ordine. Quando Mattarella e Draghi mi trovi un italiano che non è convinto che abbiano fatto il bene del paese. Poi uno può stare più simpatico o meno simpatico, però sono state due scelte buone per l'Italia. Giusto? Questo possiamo dirlo. Mattarella è stato un signor Presidente della Repubblica, Draghi in questo anno ha rimesso a posto la reputazione internazionale in Italia. Quindi non è che sono io, merito di Mattarella e di Draghi. Ho visto che Polito voleva scommettere prima, ho visto che faceva un calcolo, ho visto che c'erano i bookmakers. Se lo danno a 18 Casini, io non scommetto neanche morto, però è come dire... È un'idea a Casini però, no? Sicuramente, comeppure sicuramente lo è Draghi, comeppure lo sono quei nomi che Polito invece un po' ha scartato. Cioè ancora la mia impressione è che siamo abbastanza in alto mare. Però è normale. A chi dice, oh la politica è indietro. La politica in Italia ha il compito di reggere il Presidente della Repubblica. E Polito, che ha molta più esperienza di me, sa perfettamente che queste robe arrivano all'ultimo minuto. Nel 2006 D'Alema voleva farlo lui e nelle ultime ore Zack gli spuntò Giorgio Napolitano. Nel 2013 ci fu il patatrac di Bersani. Nel 2015 Mattarella uscì, se non ricordo male, il giorno della prima votazione, facciamo la riunione. Uscì alla quarta, ma il nome lo facciamo due giorni prima. Dato che l'ultima volta con Mattarella lei riuscì proprio la cosa di fare il Presidente che aveva in testa lei. Stamattina ha visto Enrico Letta. Che le ha detto? La cosa che a me mi ha colpito l'altro giorno, perché io non ero andato a casa di Conte, anche lei era tutto centrosinistra, lei ancora è nel centrosinistra. La mia idea di centrosinistra è leggermente diversa da quella di Conte. Conte sostiene di essere nel centrosinistra, ma ha un omonimo, si chiama Giuseppe Conte anche lui, che ha firmato i decreti sicurezza. Ha un omonimo che si definiva sovranista, ha un omonimo che si definiva populista. Quindi sono contento che adesso lo abbiano accolto nella grande famiglia del centrosinistra. Però quando il centrosinistra era una cosa diversa, riformista, non c'erano i grillini. E si è offeso Letta che lei, quei loro tweet fotocopia così, di armonia, le defini? Io non mi sono offeso. Qui con quale ha definito? Questa era bellina, aiuto. Era caduto il microfono perché appena lei ha detto qui con quà. Adesso lo aiutiamo, lo aiutiamo. Spero che si senta lo stesso. Era una battuta perché si diceva che quel tweet fotocopia sembrava scritto da qui con quà. Poi qualcuno ha iniziato a dire ma allora Zio Paperone... Zio Paperone è Berlusconi, torna perfettamente. Il problema è chi fa Zio Paperino. E lei chi è Gastone? Io non so, forse sono più adatto a fare Zio Paperino che quello... E lei chi è?